Sembrerebbero in via di risoluzione i vecchi rancori mai risolti tra la polisportiva all'Aquila Rugby e l'Aquila Rugby Club, che non hanno permesso all'Aquila Rugby Club di scendere in campo al fattori domenica 1 ottobre, nella prima giornata di campionato di Serie A, contro Prato Sesto. Motivo del dissidio sarebbe stata l'incapacità dell'Aquila Rugby Club di onerare l'impegno economico di 25.000 euro preso con la polisportiva, in cambio di 8 giocatori necessari per completare la rosa. Al momento va definendosi un accordo con la polisportiva che prevede l'impegno di 7 giocatori con il passaggio definitivo dei regbisti Cialente e Ponzi per 7.500 euro ciascuno e il trasferimento in prestito di Angelini, Troiani, Tinari, Pupi, Sansone e Cialia. La rosa pertanto raggiungerà i 28 atleti che permetteranno all'Aquila Rugby Club di disputare il campionato a partire dalla seconda giornata. L'Aquila Rugby Club si è impegnata ad erogare 30.000 euro entro la fine del campionato e mentre domenica si è sperato fino all'ultimo momento in un qualche positivo colpo di scena, i giocatori e i tifosi si sono comunque incontrati davanti lo storico stadio Fattori per trovare insieme una soluzione che consenta alla squadra di far fronte a questa insidiosa crisi. Perché come hanno scritto gli atleti nella loro lettera aperta ai concittadini aquilani, l'Aquila Rugby è una squadra che hanno provato a dividere senza riuscirci, unita da qualcosa di più di una semplice amicizia sul campo. E i tifosi hanno risposto con un comitato cittadino Save l'Aquila Rugby. L'appuntamento sarà il 3 ottobre martedì all'auditorium del Parco del Castello alle ore 19.30 per sostenere la squadra con una raccolta fondi. Intanto l'amministratore delegato Antonio Di Giandomenico ha presentato le sue dimissioni. Di Giandomenico ha cercato di sostenere la squadra per quanto possibile visto che il rugby e i colori neroverdi sono per la città uno sport identitario. I coach Troiani e Rottilio restano come tecnici al fianco dei giocatori, che hanno affrontato lo scorso campionato con una determinazione e una grinta fuori dal comune incuranti delle enormi difficoltà. Ed è proprio su questi ragazzi che coach Rottilio pone attenzione. Atleti come Angelini, Rettagliata, Giorgio e Nicola, Rossi, Vaschi, Cerasoli, Bascia, Barducci, Ponzi, Ciofani, Fusco, Carnicelli e Speranza, che pur avendo ricevuto convenienti offerte da altre società hanno deciso di rimanere all'Aquila. Sostegno neroverdi anche dal mondo del calcio. I rosso-blu aquilani hanno vinto con l'Agnonese 2-1 e mister Battistini è sceso in campo con la maglia del rugby neroverde dedicando proprio agli atleti aquilani la vittoria.